Siamo tornati, più carichi che mai! Oggi nuovo evento con altre carte strepitose Non è un caso che voglio ritentare il record Perché è uscito Garriccia98 così raga Pepepem Reina, Neuer, Gwendusi Ragazzi sono usciti uno sfacello di mutaforma Icone mutaforma Che possono aiutarci per arrivare al record L'obiettivo è sempre quello Fare il 126 Non perdiamoci chiacchiere E sappiamo ormai a memoria questo video Questa serie, dobbiamo farcela ragazzi Come sempre, sostenetemi con un bel mi piace Iscrivetevi al canale e condividetevi Comunque fatemi sapere nei commenti Qual è il vostro record in questa estate Condividete con tutti i vostri amici E partiamo Per il draft di oggi 4-3 contenimento, un bel pelè a sinistra Sarebbe veramente top E ovviamente non c'è pelè Andiamo con strepasso a est Dai, facci vedere questo fenomeno Va bene Va bene, va bene, va bene Calma Bruno Calma, Bruno ATT Va bene Lo zio Richard Ho trovato Richard CC Vediamo Va bene Va bene Lo zio Rotar Va bene Va benissimo Immagino Anche se Park sarebbe tanta roba Andiamo con Park per il link Però beh, adesso la situa è molto buona Lo zio Sedorf Nuovo nuovo appena uscito Ragazzi buoni Buoni ragazzi Stiamo buoni Servirebbe un bel Paolo Maldini Varan va benissimo come Paolo Maldini Se poi qui a Bianca vogliamo mettere lui Ruben Dias altrettanto perfetto Stiamo andando molto bene Prendiamo Premier League e stiamo attenti Speriamo un portiere alto overall Merda Allora La profezia è questa Quando c'è un portiere Non Premier League Non uscirà mai un portiere Premier League Ok Ragazzi Oh ragazzi Il gioco è così Nel senso Quando io lo dico Non è una casualità Veramente è così Robertson Pizzico meglio Però Non abbiamo nient'altro Ma il portiere Ragazzi Non lo troviamo mai Ripeto Mai il portiere Peccato James era perfetto James era perfetto Andiamo con Virgil L'overall più alto Serve solamente una D E un TD E D A D A noi serviva E vabbè Prendiamo overall più alto Peccato Un draft bellissimo raga Bello 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 Nulla che ci può servire Overall altrettanto buono Andiamo avanti Minghi Questo tanta roba Alex perfetto Ma come sempre Ci mancano i link Ci mancano i link Sonno non lo prendo Perché tanto a noi serve la D Quindi Erling Erling Lo prendiamo ragazzi Casemiro Mamma mia Erling Si prende sicuro al 100% Però Manca solamente Strepazzo Serve solo La D Signori A D E penso che questo è il record Ragazzi A D Di A B E Francese Non abbiamo nessuno Ragazzi C'è Varane Lo so Ma Non ha senso Il tanto il TD c'è Mamma ragazzi Questo è il record Raga Questo è il record 100% Se non troviamo la D Questo è il record 100% Ragazzi Questo è il record 100% Abbiamo tre carte Per trovare un qualsiasi A D Premier League Politano La nonna di Politano Mannaggia A D Premier League Raga A D Premier League Guarda qui Guarda qui Guarda qui Che peccato Ultimo A D Premier League Niente Niente Signori Ah Primo draft Già con la rabbia Primo draft Già con la rabbia Signori Che peccato Guarda qui Che draft meraviglioso Unica pecca L'esterno destro Davvero Una pecca Clamorosa Mancava Ah anche il portiere Ah ok ok Due ruoli Portiere E a D Potevamo farcela 4-3-1-2 Non male Potrebbe regalare emozioni Ok Un bello ATT 93 Queste icone Mi stanno piacendo A fianco Posseremmo mettere Erling Dai mettiamo Erling Anche se prima Quello 97 Era molto più caruccio C-O-C Madonna Siamo tornati indietro nel tempo Sta carta Questa di Aversa È stata forse la prima Carta di FIFA Vai con Odegaard Ormai siamo in premier Ragazzi Ormai siamo in premier Quindi andiamo così Vai con Claudiozzo Marcheto Questo non lo vedo Molto Prosperoso Come draft Il solito park Che alla fine Aiuta sempre Andiamo sul T-S Roberson Andiamo sul T-D Questa volta Vediamo 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 Petit nuovo Petit nuovo Buttaforma Addirittura 95 Andiamo avanti Andiamo avanti Un T-D Un D-C Prima per trovarlo Ok T-D Alla fine il D-C È trovabile Il D-C Alla fine è trovabile C-C Ottimissimo È anche l'overo Il più alto E possiamo mettere Qui questo eroe Va bene Va bene Non sta andando male Non sta andando male Cacca come C-O-C Fantasmagorico Fantasmagorico Perché serve Proprio Signori Serve proprio Ottimo così Qui possiamo Prendere nessuno Perché non abbiamo La T Quindi ovvero Il più alto Per alzare la panca Eh Chi serve Serve solamente Il D-C Raga Solo il D-C Rimaniamo calmi Raga Rimaniamo calmi Solo il D-C Quanto è bello Se mi esce Lo zio Memo Maldini Un qualcuno Del genere Ultime tre carte Un'altra volta Dai ti prego Un bel Minchia Il fenomeno Eto Eto Non lo potremmo utilizzare Bellissima Carta nuova Raga Stratos Sferica Prendiamo il fenomeno Perché lo possiamo mettere Qui che dà un meno 4 Però poi l'allenatore Potrebbe alzare un po' tutto Vediamo un po' Se l'overo Ci siamo Vediamo un po' Serve solamente un D-C Cari Oh merda Il D-C Per chiudere tutto E Tanto per Eccolo qui Eccolo qui L'intesa c'è L'intesa ce l'abbiamo Signori Niente Ogni volta che facciamo L'intesa Non facciamo L'overall Di uno 4-2-3 Che sembra Troppare molto bene Quest'oggi E che inizio Spumeggiante Il fenomeno Pele 99 Chiudiamo Ma che schifo Gersinio 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 Il collega di Pele Gersinio Il collega di Pele De Bruyne Va bene Guarda ragazzi Non prendo Montes Per carità De Bruyne Memphis Depay Beh Varela Non ci serve a nulla Memphis Depay Perché tanto Il restante Non ci serve Totalmente a nulla Ok Tiago Buono 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 TD Trent Perfetto Trent Servono due grandi DC Due DC di livello Opla Due DC di livello C Ridillo A più ridillo Oh no Va bene Questo qua Fa il link Un minimo di link C'è Richelme 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 Buono Buono Nuovissimo Richelme Nuovissimo Ramsdale Va bene La premier c'è Serve solamente un DC E un CC Un DC E un CC Va bene Un CC per questo E un DC Dai 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 Un bel virgil Un virgil Un icon No Era DC premier Quello a fianco Merda Ma sono giocata così Ma sono giocata No è finita ragazzi Le ha un 97 Non male Dai Mi son giocato Ma inchia Regà Mi son giocato Il DC Volete che Inbombi Un'altra volta Per questo errore Ruben Dias Dal nulla Ah ma a noi manca il CC Ma andate a Oh Lu Ci manca solo il CC Era record Guardali sempre No ragazzi No ragazzi Io Abbiamo 4 3 2 1 di oggi Vediamo se regala un minimo di emozioni Non è il fenomeno Drop It Titan Ma è comunque Ronado il fenomeno Ed è un inizio Buonissimo 97 96 Vediamo Ok minimo 95 Quindi ragazzi 97 96 95 Abbiamo scalato Signori Servirebbe Luca Modric Ok Possiamo andare con Park Perché è un over o l'altro E soprattutto link Ha un po' di tutto Qui servirebbe Mann Ah ragazzi Però questi mi pijano per il culo E prendo la Premier League E mi troppa Modric E prendo La Liga Spagnola E mi troppi la Premier League Ma tu mi stai prendendo per il culo Però E vedi Ma non possono giocare a calcio per davvero Dai ti prego Un bel DC Uno bello alto overall The League Creepio Mi aspettavo qualcosina di più Però dai Facciamo finta di nulla Teniamo un micah Un DC e un portiere da cambiare E il portiere L'abbiamo cambiato Se vede un DC Dai ti prego Ce ne sono così tanti Forti Dai Dai Serve il TS però Aleksandro Michele Il TS che sognavo Come cazzo hai fatto DC Ce l'abbiamo Serve solamente il TS Un attimo L'atteso non me esce Qui serve solamente il TS Raga Il TS TS Bella di cacciotta Porco 2 Se è bella di cacciotta Raga 97 Antonino Martial Abbiamo anche Eric Cantona Chi è che non ha link? Il TS Serve solo un TS E secondo voi L'EA Ce l'ho troppa? No 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 Amore mio ti amo Afferra la mia mano Manco con il binocolo Vedi un TS Cristo Delle loro zie Manco col binocolo Lo vedi Guarda che bella panchina Ma un TS Manco col binocolo Ti dici Cia Tia 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 Bribi 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 Ma dai un'altra volta Comunque che hai presa per il culo Bello zinedine A me serviva solamente il TS E incula la tua zia Ma vattela A pigliando il culo Di nuovo Uno solo Uno Che c- Oh sai Oddio Fermi tutti Fermi tutti Garriccia Nuovo 98 Da quel brio in più Da quel brio che serviva a questo food draft Da quel brio che serviva a noi ragazzi Servi che ha peccato per le S che Dini non può farlo Però è un grande inizio Un fantasmagorico inizio Dai prego però l'altissimo Casillas 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 Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene E ripeto che va bene De che ha pure per sicurezza Top Top Prendiamo questo Che ci serve Un DC E un S Generalmente Un DC E un S Che cavolo Diamo un DC Mamma Non ci credo Petit C'era DC Nella versione C'è noto quella C'è noto quella C O C Peccato Ma va comunque benissimo Vai con questo qui Ci deve essere solamente raga Un DC Porca troiella Porca troiella Questo è buono Porco 2 S'è buono Eh Bergkamp è buono Chi è che non ha il link Vabbè Copacic Sì vabbè Vatta Pia Un po' Un po' di gente Non c'ha l'overo Però ragazzi Dai 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 Speriamo bene Un DC Cribio È il DC sbagliato Dai ti prego DC Dai ti prego DC sbagliato Ultimo Per l'ennesimo E niente Questo Non faccio nemmeno Outro Saluti Oggi no Sono solo due ore E ho fallito Tornerò Io vi chiedo solamente Un mi piace Ditemi la vostra Nei commenti Condividetelo come sempre Passate ai miei social Vi ringrazio Per aver visto il video Vi dico solo Che tornerò E ce la farò Che tornerò E ce Sare Che tornerò Grazie per la visione!